Ciao a tutti, mi chiamo Sara Stevanovic e per il progetto Isole Distanti ho scritto un brano per violoncello e elettronica che si intitola Across the Passing Hours. Il titolo, ma anche il brano in generale, si basano su un libro di Georges Berek, uno scrittore francese che in questo periodo è stato particolarmente importante per me. Il violoncello prende il ruolo di questa persona che all'improvviso deve riuscire a disabituarsi a tutto e imparare tutto quello che, come dice Berek, non si può imparare, che sono la solitudine, la pazienza e il silenzio. Buon ascolto! Grazie a tutti!